ciao a tutti visto che ieri ho postato su facebook questa bellissima macchinetta etichettatrice in tantissimi avete chiesto faccio vedere come funziona perché ho visto che in tanti l'avete comprata alla lidl e allora vi faccio un video su come funziona è estremamente facile proprio facilissima vi faccio vedere alcuni esempi mettiamo magari un po d'ombra vedete questo è il nastro di raso che sarebbe questo qua vedete quando c'è scritto ribbon è il nastro di raso e deve essere sempre 12 mm e mi raccomando io ho preso il set su amazon dove c'è il rosa stampato nero il rosso stampato dorato il rosa stampato dorato che non si vedrà mai poi questo bianco c'è già nel pacchetto il sempre il nastro di raso bianco stampato dorato e il blu stampato dorato che secondo me quello che si vede un po meglio poi quelli che diciamo servono comunque sono utili e il white laminated che sarebbe questo qua che anche staccando l'adesivo che c'è dietro rimane comunque bianco e il clare che invece è trasparente staccando l'adesivo qua rimane la scritta ma è trasparente quindi magari per i baratti di zucchero caffè queste cose qua può essere utile vediamo come si usa allora intanto vi arriva con delle istruzioni diciamo un po così colà però c'è scritto abbastanza abbastanza bene tutto allora intanto bisogna inserire le pile questo tasto qua sopra bisogna schiacciare per aprire il retro qua le pile erano già incluse infatti le inserite sono sei mini stilo e qua si mette il nastrino prendiamo ad esempio il nastrino azzurro bisogna mettere l'etichettina dove c'è il disegnino quindi di qua e infiliamo il nastro ok quando fa click il nastro è infilato poi prendiamo la chiusura qua ci sono due blocchini infiliamo e chiudiamo ogni tanto farà un po di un po più di fatica perché va incastrata bene ok adesso scendiamo tasto accensione schiacciamo il tasto accensione e la macchinetta si accende ma io cancello tutto quello che ho scritto prima spero che lo vedete bene allora iniziamo subito con cosa significano questi tasti qua primo tipo di carattere mamma mia non si vedrà mai niente qua se lo schiacciate così si vede venezia e qua vicino vedete il diciamo il modello andate avanti con le freccine Helsinki vedete un modellino vicino che cambia brussels bolivia in base a quello che vi ispira di più scegliete ce n'è un bel po io scelgo brussels ok accettato per cambiare la lingua quando vi arriva menu lingua ok e selezionato italiano le altre voci del menu sono larghezza della lettera che lasciate la così che se no vi viene troppo larga se proprio non lo volete voi larga la lunghezza dell'etichetta se volete un'etichetta rimanga di una lunghezza fissa dovete metterla qua margine io ho messo margine stretto perché se no vi da un margine fin troppo grande secondo me sprecate le etichette file e la comodità assurda perché qua vi salvate le etichette che usate di più ad esempio se io vado in file apri ho la prima etichetta che è questa qua per attaccare le borse e una seconda etichetta ok questa è l'etichetta per le borse che sarebbe alla fine questa che vi ho fatto vedere prima col nastrino la seconda etichetta invece ho stampato lucas forza con un gomitolino da attaccare nei libri metti caso di presto almeno c'è attaccata l'etichetta qua stampiamo no non sappiamo niente vi faccio vedere come scrivere quindi usciamo usciamo e usciamo ok allora questo è il tipo di carattere abbiamo detto questa è la grandezza del carattere se voi schiacciate infatti c'è scritto piccolo grande e medio ok io nei video di vista ho messo medio qua ho messo grande sì vabbè vedete la differenza ce n'è quindi lo potete fare anche bello grande ad esempio mettiamo medio qua invece è se il tipo di carattere quindi schiacciando vi viene ombreggiato corsivo e vedete sempre l'anteprima qua dal lato eh corsivo corsivo più grassetto corsivo più bordato corsivo più ombreggiato verticale perché potete fare anche le scritte verticali verticale grassetto è normale io metterei corsivo vediamo come viene corsivo ok ultima cosa questo tasto qua sono le bordature ad esempio vedete io qua questa vedete è un'etichetta di quelle clear trasparenti qua io ho scelto il gatto il gomitolo e il gatto ok che è un bordo se voi andate su bordi e andate avanti ce ne sono 61 tutti uno più bello che l'altro si vede poco eh però e potete scegliere quello più adatto a voi altrimenti mettete niente come si dice di non mettere niente ad esempio adesso scegliamo questo qua con i fiori ok e adesso l'ultimo è per fare i nastrini bisogna cliccare selezionare la categoria nastro perché c'è nastro testo o motivo si possono fare anche i nastrini solo con i motivi se voi selezionate nastro scrivete quello che dovete scrivere e vi stampa il nastrino aspettate che ve lo faccia vedere che ce l'ho qua eccolo qua e io ho fatto il nastrino con la scritta lucas forza creazione and made vedete e si ripete per tutto il nastrino col gomitolino prima e dopo dovete fare un regalino dovete fare che ne so regalare un paio di di scarpine da bimbo a una vostra amica che gli nasce il bimbo fate il pacchettino e lo lo chiudete con questo nastrino così viene una cosa molto personalizzata molto secondo me molto bella ok adesso come scrivere poi vabbè gli altri tasti alla fine sono questo qua per vedere l'anteprima e questo qua per stampare non è che c'è molto alto questo per uscire dal menu allora per ehm mannaggia si vedrà ok vedete AA questo qua dovete selezionare quando volete vabbè adesso usciamo dal menu eh quando volete tutto il testo eccolo qua tutto il testo maiuscolo dovete selezionare questo che è questo qua quando volete invece solo una lettera selezionate questo e selezionate questo qua lo shift come sulla tastiera per i simbolini eh fate come sulla tastiera diciamo lo shift invece per le lettere accentate qua e scegliete con le fraccette per invece i simbolini scegliete qua faccio vedere perché c'è c'è pittografato o base se voi mettete pittografato artigianato vi viene la macchina da cucire il gomitolo il pennello il bottone vedete e per noi che facciamo bagno uncinetto il gomitolo qualche fa cucito comunque bello nonno ci sono abbastanza tante cosine allora iniziamo cosa scriviamo proviamo a scrivere il nome di mia mamma dai allora intanto adesso non ne è selezionato niente quindi mettiamo la p maiuscola che facciamo qua p maiuscola e scriviamo patrizia ok vediamo l'antiprima viene così con il contorno di fiori e la scritta patrizia ci va bene? ci piace? qua sotto mamma mia voi non lo vedrete mai neanche a morire ecco forse così c'è scritto quanti millimetri viene lunga ok questa viene 8 centimetri e qualcosina schiacciamo su stampa copie una se no aumentate fino a 9 guardate la magia schiacciate ok questa qua sopra è la forbicina quindi schiacciate la forbicina e tirate fuori la vostra nastrino vedete poi ci sono anche i due puntini per tagliarlo alla stessa lunghezza che dall'altra parte vediamo se ho forbice a portata un consiglio bruciateli sia da un lato che dall'altro con l'accendino perché se no vi si sfilano come qua vedete prima di cucirli dateci una bruciatina sia da un lato che dall'altro e viene il nastrino vedete che le scritte una è più piccola perché questo è il formato piccolo messo di scritta questo è il formato medio ok e questi vi li potete mettere ovunque sulle maglie che fate sulle borse ovunque proprio in ogni creazione che fate perfino le scarpine potete farlo piccolino piccolo piccolo piegarlo così e attaccarlo alle scarpine come gancino è utilissima proprio secondo me è una bomba proprio bella 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 poi se voi la spegnete e la riaccendete vi rimane memorizzato quello che c'era scritto non c'è pericolo che che perdate la memoria quindi schiacciamo qua apriamo tiriamo fuori il nastrino e magari prendiamo il nastrino white che facciamo la stessa stampa anche con questo qua così vi faccio vedere ok sempre patrizia stampa una copia stavolta stampa la di qua schiacciate tac e voilà ci sono sempre due puntini dove tagliare dritti che io non riesco a mettergliare dritto poi cosa fate allora in una vecchia che ho visto io una fatica boia per staccare il la plastichina dietro per poter attaccare l'adesivo invece qua voi dovete solo piegare in due vedete che ha aperto qua in mezzo piegato in due e si leva subitissimamente e rimane comunque bianco perché questo è white invece nel trasparente vedete se voi piegate in due e ne togliete una vedete che è trasparente non è non è trasparentissimo perché comunque c'è la colla dietro però una volta attaccato a un barattolo non si vedrà più assolutamente questo è tutto allora io vi lascio tutti i link in descrizione perché allora la macchinetta l'ho presa dalla Lidl perché invece che 52 euro l'ho pagata 34 perché su Amazon costa 52 euro io vi metto comunque il link anche di quella di Amazon le ricariche non 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 vi conviene prendere quelle originali della browser come queste vi conviene andare su Amazon al link che vi lascio e prendere queste che vi dico io allora fate conto che questa qua costa 7 euro 99 una che è 4 metri su Amazon con 14 euro ne prendete 5 quindi non spendete neanche 3 euro l'una ok capito e vanno che è una meraviglia quelle white laminate quindi quelle che si attaccano per il nastrino è una cosa diversa perché costa comunque su Amazon meno di sicuro di quelle di costa 25 euro 6 pezzi quindi meno di 5 euro l'una 6 12 18 24 eh facciamo 4 euro l'una dai sui 4 euro l'una vi costa queste qua con con il nastrino i ribbon vi lascio il link in descrizione sia di un kit che dell'altro perché secondo me è molto valida un'altra cosa che volevo dire c'è l'attacco per attaccare la corrente non vi danno il cavetto l'unica cosa ma secondo me non vale la pena perché alla fine l'accendete fate la scritta lo spegnete non è che consumate tutte ste pile ok io alla Lidl con 2 euro 50 ho preso altre 8 pile di ricambio quindi alla fine non conviene spendere 10-12 euro per un attacco per un attacco alla presa secondo me ok e questa è la P-Touch H200 andate a vedere la Lidl perché qua da Alessandra ce n'è ancora andate a vedere secondo me è un buon acquisto per noi creativi fate conto che le etichette che mi facevo io no scusate le etichette che compravo pagavo 30 euro 50 etichette ok se voi fate conto che un'etichetta di queste che è già grande voi fate conto dell'etichetta quella normale che userei io nelle borse misura 7 cm ce n'è 4 metri altro che 40 ne fate ne fate più che 40 con un rotolo da 4 euro ok e quindi secondo me conviene per noi che facciamo tantissimi progetti conviene prendere queste macchinette qua perché ok fate la spesa una volta ma poi vi prendete tutti i colori che volete e ve li fate in base alla borsa fate l'etichetta del colore che volete ok se avete dubbi vi aspetto nei commenti mi raccomando lasciatemi un like iscrivetevi se non siete ancora iscritti e cliccate sulla campanellina perché tanti mi dicono che non vedo i miei video ma il problema è sempre quello che se non cliccate sulla campanellina non vi viene la notifica ciao buona serata buon fine settimana ciao ciao